buonasera ragazzi spero che il buon pregianza vi abbia rincoglionito negli ultimi due minuti quello che ha fatto ma va bene e non sono le pause sui menu direi che buongiorno buongiorno oggi giochiamo a naruto shippuden ultimate ninja revolution gioco con il titolo più lungo del mondo assolutamente si è il quattromillesimo capitolo dell'avventura di naruto che come al solito ho curato le cyber connect che sono anche la serie di giochi che li ha lanciati un po nella galassia degli sviluppatori noti giapponesi perché perché cyber connect hanno sempre dimostrato di essere molto bravi sulla spettacolarità hanno una grande passione per i manga giapponesi e hanno una fedeltà enorme al materiale quando si tratta di fare videogiochi lo hanno dimostrato con il gioco di lo hanno sempre dimostrato con il naruto sono considerati tra i migliori manga game in circolazione ha ragione perché comunque si tratta di picchiaduro molto accessibili non particolarmente tecnici ma molto veloci molto divertenti e estremamente spettacolari con una bordata di personaggi perché i personaggi della serie di kishimoto sono tantissimi e loro li riportano bene o male tutti la versione che proviamo oggi è la versione preview vi faremo vedere un po il gameplay discuterò con voi il gameplay e le e le modalità le modalità che sono nuove anche se alcune si rifanno a quelle vecchie e sono le due campagne del gioco una è molto simile a quella passata e l'altra è la nuova modalità che è il torneo mondiale dei ninja ok è un giorno non lo vedo non l'ha visto nessuno perché non l'abbiamo fatto vedere aspetta che si giusto intanto mandiamo eccoci qua è un gioco basato sui filler questo sì e no perché il torneo mondiale dei ninja in realtà sarebbe la campagna principale e non c'entra niente con i filler sono storie originali però sono storie messe lì proprio a casaccio giustificare i combattimenti i filler sono quelli delle avventure ninja che sono la cazzo negli akatsuki il rapporto di itachi con il suo miglior amico e il modo in cui ha ottenuto il mangekyu sharing sono comunque dei filler molto interessanti sono dei filler interessanti comunque sono dei filler che vanno a coprire delle non sono inutili insomma no sono dei filler che vanno a coprire dei delle storie che nel manga non vengono non sono state trattate nel dettaglio ok ok fatto sta che ha ragione chi dice che i filler normalmente sono la parte più diata di un anime perché perché lo allungano lo allungano il brodo di smisura perché così non superi i capitoli del manga che sono chiaramente più lenti dei capitoli dell'anime e spesso creano delle incongruenze enormi con il materiale originale ho capito non ho mai seguito i filler di naruto leggo ancora al manga perché ormai voglio vederlo finire avendolo cominciato quando avevo 3 10 14 anni fatto sta che non so dirti quanta sia la qualità dei filler ma comunque sono ho visto filler nettamente va bene iniziamo a giocare intanto io ti cerco qualche domanda partiamo dallo scontro libero perché così vi faccio vedere un po del sistema di combattimento di come è cambiato nei commenti siamo di combattimento e come è cambiato partiamo ricordo ragazzi allora se usate internet explorer se siete fra i pochi al mondo che ancora usano internet explorer la chat dà dei problemi direttamente sul sito di twitch.tv slash spaziogames e potete chattare tranquillamente con noi esatto prendiamo visto che me l'hanno chiesto il mio personaggio preferito di naruto cioè shikamaru ok e vi faccio vedere il primo tipo che è quello più basilare il tipo tecnica suprema contro mi chiamo chi va contro un altro tipo tecnica suprema anche perché se il 93 ti chiede secondo voi come dovrebbe evolversi la serie preferireste uno stile di combattimento più tecnico sinceramente no perché questa non è una serie di picchiaduro che deve necessariamente puntare al competitivo è chiaramente un gioco puntato sui fan secondo me l'evoluzione deve essere a livello di contenuti cioè il questo mi dà l'impressione di essere un mezzo contentino in prima del finale del manga cioè il penultimo gioco che dovrà uscire prima di quando il manga finirà tanto notiamo che il gioco è già completamente localizzato in italiano pur trattandosi di una versione preview esatto che ci lascia pensare che questa cosa c'era dire che comunque la localizzazione non è delle più brillanti che abbia visto la traduzione che è un po desiderato però diciamo questo significa che se già c'è la localizzazione italiana l'edizione preview vuol dire che il gioco è già a buon punto non credo che vedremo grandi differenze anche perché se non sbaglio il titolo già completo già uscito in giappone ecco tutto anche attivato la città e ciò mi porta via ammazzate ci chiedono anche di rimanere in giapponese poi lo cambiamo prima nuova tecnica la spezza guardia che è questo colpo qua che rompe la guardia ne hai due e stordisce l'avversario è molto forte quindi se lo usi il momento giusto è davvero pericoloso l'altra tecnica nuova è difensiva e ora se riesco che la faccio vedere appena lui mi attacca fisicamente sbagliata eccola qua e questa è la tecnica che più mi preoccupa nel gioco perché è il counter ok il counter si attiva facendo guardia e quadrato ok quando ti attaccano di norma nei giochi ha una finestra per farlo davvero limitatissima prendi la perri di street fighter to strike è chiaro che non si possono paragonare ma in naruto è difficile intuire quando l'avversario te lo farà in faccia è limitato perché lo può usare due volte poi ti abbassa la barriera la cosa del chakra diciamo che è una di quelle mosse che è anche rischioso utilizzare però quando la usi ti da un grosso vantaggio ed è abusabile perché è facilissima da piazzare ok se prevedi l'attacco dell'avversario anche perché conta come attacco anche solo il super scatto che ti fa in faccia lo stordisci lui poi per un po' non può fare niente gli piazza in faccia di quelle combo devastanti specie se ha finito i tronchetti e puoi veramente chiudere una partita secondo me è un po' eccessiva capisco la volontà degli sviluppatori di renderla limitata perché comunque l'hanno fatto mettendola come una tecnica non spammabile cioè ne hai due ti abbassa al minimo il chakra poi il chakra si deve ricaricare quindi sei in svantaggio però è forte è veramente forte come come tecnica e secondo me nei match verrà usata praticamente sempre ci chiede una partita ci chiede intanto non mi ricordo tanto volevo vedere il roster però non ho quasi nulla sbloccato perché non ho giocato abbastanza al gioco l'ho giocato per la preview ci sono tantissimi personaggi come vedete questi blu dovrebbero essere gli assist only sono una una marea ci sono comunque quelli base della trama del viaggio della foglia tutti quelli degli altri villaggi con tot cosa ci saranno tutti i kage quelli della katsuki con bla 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 e poi versioni giovani dei ragazzi comunque belischi ci chiedeva se il gioco uscirà anche su pc e credo proprio di sì sì credo proprio di sì anzi dovrebbe essere confermata l'uscita su pc però non ti so dire quando se uscirà insieme alle persone di console oppure no esatto no non prendo lui per far vedere questa cosa qua prendo naruto in versione grosso e cattivo per farvi vedere la modalità richiedono di usare il terzo kaze kage non ce l'ho se avessi sbloccato lo userei vi faccio vedere il tipo risveglio sperando di riuscire ad attivarlo il tipo risveglio è quella praticamente esatto l'altra cosa se le si sono divisi in tecnica adesso ci sono i tipi da scegliere all'inizio il tipo tecnica suprema che prima in realtà sicuramente non vi ho fatto vedere quello che faceva permette di usare un super jutsu potentissimo contro l'avversario per questa bene o male l'unica cosa che fa il tipo risveglio con certi personaggi in realtà con tutti ti permette di entrare in una modalità risveglio che ti dà da un bonus al danno a costo del chakra ma se prendi abbastanza botte dai abbastanza botte si riempie un indicatore che ti permette di entrare in vero risveglio cioè tu carichi il chakra e diventi a seconda del personaggio una tua versione potenziata con altre moveset e disponibile per questi tre tipi sono disponibili per tutti i personaggi sì il tipo azione secondo me quello più sgravato è quello che ti modifica gli assist e ti permette di avere assist difensivi e offensivi contemporaneamente a scelta il che vuol dire che quando ti carichi il chakra sei protetto perché arrivano gli assist e ti proteggono quando attacchi le tue combo sono potenziate perché gli assist ti aiutano e certe mosse vengono potenziate dagli assist che puoi switchare in qualunque momento in più hai una tecnica che blocca le tecniche dell'avversario se lo colpisce secondo me tra i tre il tipo azione mi sembra così a occhio quello un po più sgravo perché hai troppi supporti quindi sei difficile sia da attaccare che da contrastare però c'è da dire che anche gli altri due cioè il risveglio nel momento quindi tu dici che tutti useranno tipo azione no perché comunque anche gli altri due hanno delle dei vantaggi tipo la cria suprema fa molto figo il risveglio se ti risvegli hai vinto la partita perché quasi è difficilissimo contrastare un risvegliato anche se comunque è talmente grosso che faceva colpire è chiaro non è non lo so così a occhio tipo azione mi sembra sgravo rispetto a due però è troppo presto per dirlo capito non ho giocato abbastanza in internet da saperlo adesso proviamo il tipo risveglio come il framerate ti chiedo è ballerino molto 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 in finicus ricordiamo ragazzi che questa è la versione preview del gioco non è la versione definitiva è quella arriverà fra un paio di mesi se non sbaglio a settembre esce il gioco sì non mi ricordo come controllare sul nostro esce il 12 settembre si esce 12 settembre quindi fra un mese e mezzo e allora vedremo effettivamente se questi problemi saranno risolti per il momento questo non è un codice definitivo non lo ripetiamo consapevole del framerate nei precedenti capitoli io non sfrerei troppissimo in un miglioramento grosso certo rispetto alla demo già il miglioramento è stato comunque già qua buono sazuki mi sta riempiendo di bordatone ti chiede mano il mazzocchi ciao ragazzi ma almeno in questo capitolo la storia viene narrata decentemente e no perché purtroppo c'è questo fattore qua che appunto concentrandosi su puntate che non sono legate in realtà molto alla storia vedete mi sono risvegliato i mirani sono aumentati io ho fatto molto danno il mio music è particolarmente variato ma purtroppo il mio chakra mi ha risentito e e adesso la mia barra è limitata quindi faccio molto più fatica preso e deve riempirsi con l'indicatore blu lì perché io possa utilizzare effettivamente il risveglio come si deve però un po menare al contempo darò un po di botte che sazuki prendendo mazzate ha già quasi caricato la barra ma io sono ancora molto lontano come vedi è sempre molto scenico no e hai anche gli oggetti da utilizzare durante curioso che ho usato sazuki chiede gilis non potrebbero fare uno one piece strutturato come videogame di naruto non sarebbe male anche perché comunque sono entrambi combat fighting shonen nel senso che sono entrambi combat manga che si prestano molto bene a un picchiaduro quindi non vedo perché non dovrebbero poterlo fare dai passi sono d'accordo speriamo che non mi ammazzi prima che si attivi la roba devira 97 cos'è un risveglio oh cacchio mi sa che sono morto perché ha usato la tecnica suprema su di me e la tecnica suprema quando prendi i due assi è un umocono gigante? no dipende dal personaggio in questo caso con la squadra 7 la tecnica suprema sono le evocazioni di loro 3 ed è potentissima potrebbe avermi ucciso no sono ancora vivo e ho il vero risveglio della mia quindi potrei farcela se si l'ho fatta guarda cosa succede quando mi risveglio risveglio quindi risponderò alla domanda di prima esatto notare quanto sono grosso e cattivo che figata domande l'unica cosa che effettivamente è abbastanza fastidiosa è che una volta risvegliato cambia anche lo scenario che è una cosa che un po' ma rimane così? si finchè non finisce il risveglio è un po' straniante questa cosa che tipo cambia lo scenario quando c'è il risveglio quando sei veramente risvegliato a seconda del personaggio diventi una bestia fortissima e cambi completamente moveset nel caso di Naruto appunto diventi la 9 code e li sono cavoli per tutti però è anche una appunto è una modalità molto potente quando lo ottieni ma puoi ottenere quella moveset lì solo quando prendi un bel po' di mazzate ok quindi non è proprio facilissimo raggiungere il vero risveglio nel caso della super mossa invece è tutto molto più facile perché le mosse speciali sono molto più assennate per dirti adesso prendo ti faccio vedere il tipo azione comunque ragazzi le domande se consigliamo il gioco oppure no è presto per dirlo perché siamo ancora in fase di preview e questo tipo di giudizi li rimandiamo alla recensione quindi fra un mesetto circa adesso vi faccio vedere il tipo azione il tipo azione ha invece la possibilità di switchare da azione offensiva e difensiva gli assist che mi sembra una cavolata ma in realtà è molto forte stai usando l'account di Tommaso? no ok no perché dico no stanno sbloccando l'account stanno sbloccando i trofei ah no alla faccia del Valentini e del suo account no li sta sbloccando pregianza no li sto sbloccando io sto giocando sul mio account non sto giocando su nessun altro arrivano richieste sui personaggi ti chiedono di usare Shino e si poi al massimo della faccia la uso roccato della velocità vedi azione supporto 2 ora il mio supporto quando io carico il chakra mi difende che è già una cosa molto forte non va sottovalutata assolutamente e quando io attacco spesso e volentieri mi supporta durante le combo che non va sottovalutata come cosa anche perchè tu puoi allungare parecchie le combo in Naruto abusando dello scatto al chakra finchè hai chakra ammetto la mia ignoranza su un Naruto questo personaggio non lo conosco chi dici Yugo? Kakashi Ah Yugo è uno dei compagni di Sasuke ok quelli che libera quando scappa dalla prigione di Orochimai però per il resto ecco questo ecco perchè è vestito così questo è anche un posto dove se tu rompi la barriera lo puoi buttare fuori dal rino sono non tutti e adesso l'ho assordito perchè ho usato il colpo assordente sono meccaniche molto forti fin troppo forti secondo me queste qua nuove e sono piuttosto pericolose Pippo in Zaghi 92 no non mi occuperò io se ne occuperà lui di questo gioco quindi non farò assolutamente la live review di questo titolo perchè io sono incompetente sui Naruto ecco vediamo se riesco a fare la barriera a sigillo che è questa tecnica che praticamente ti blocca tutte le tecniche speciali legate alle cose ed è solo anche questa del tipo azione è un'altra tecnica piuttosto forte e abusabile di questa Ayo forza inferie ragazzi la risposta è inferie ieri era qua perchè non aveva un cacchio da fare perchè pioveva perchè non sapeva che cosa comune oggi è uscito il sole il miracolo e quindi naturalmente non si è presentato ma giustamente non si è presentato esatto e io invece mentre facevo faccio lo sbrone sto rischiando di perdere e rischio seriamente di perdere qua potrebbe essere un serio problema comunque una live review su questo gioco potremmo anche pensarci quando uscirà in versione definitiva alla fine ho fatto troppo lo sbroffo e quindi niente le ho prese comunque dicevo appunto sono meccaniche molto forti perchè secondo me quando tu giochi cioè stordire l'avversario per così tanto è abbastanza sgravo soprattutto anche perchè non te l'aspetti e non è che Naruto abbia proprio questo fattore del reagisco immediatamente e reagisce immediatamente il gioco perchè è un po' più cioè quando tu entri e fai una combo sono un po' più abusabili ti butti nella combo e la combo va puoi bloccarti perchè puoi schiacciare anche quando fai lo scatto puoi schiacciare la parata adesso vi farò vedere Shino ti hanno chiesto Shino, si no, Hino era lì, sotto qua, bingo prendiamo Kiba come coso e facciamo tecnica suprema e picchiamo Yugo l'abbiamo già visto lui in tipo azione prendiamo Shino che è quello che controlla gli insettazzi poi vi faccio vedere le modalità dopo questo adesso questa qua è semplicemente un'analisi più o meno del gameplay non è niente di che sto giocando un po' così per farvi vedere un attimino come funzionano le nuove meccaniche poi ci sono altre richieste c'è Kakashi chiesto da Niki l'ho usato poco fa ah ok non ci ho fatto neanche caso io Aniki che è tornato tra l'altro ben tornato eeeh eeeh Shino mi sembra è troppo limitato a livello di combo non sembra mai quasi tanto col singolo colpo ecco come ha fatto lui il counter e io non posso usare neanche i tronchetti mentre sono stordito che è una roba veramente brutale ok quindi tu dici che è overpowered vediamo un po' le mosse di Shino perché sinceramente mi sembra troppo limitato il secondo sto perdendomi qualcosa mossa ninja ah ecco perché è un personaggio dalla distanza perfetto ok quadrato 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 su quadrato 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 è un personaggio è uno zon野 uno di quelli fastidiosissimi papapapa che spara gli inserti a rapida che puoi notare che belli i personaggi spammoni sono arginabili però sono molto fastidiosi vedi sto riempiendo i proiettili dalla distanza erano un problema grave in questo gioco i personaggi spammoni c'è stato un periodo in cui sono stati un periodo una roba davvero problematica vediamo se riesco a farlo no l'ho mancato la telecamera com'è? preso la telecamera va benone dai fatti colpire bella tecnica suprema combinata quando sei in squadra ti fanno la combo da 3 e poi lui fa la sua tecnica suprema che come sempre è spettacolarissima questa scenetta la fa soltanto la prima volta che la fai poi fa solo la tecnica suprema la prima volta che fai in ogni match no 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 in generale puoi reattivarla però non ha alcuna utilità ti senti più figo? ti senti più figo ti allunga solo la tecnica suprema andiamo alla scelta modalità vi ho comunque fatto vedere bene o male il gameplay dimmi se ci sono domande ti dicevano tutti di usare il quadrato quando stavi ah quando stavo usando Shino perché era un personaggio dalla distanza certo dice Manuel Mazzocchi un personaggio simile per me rovina l'esperienza in realtà è arginabile perché tra scatti col chakra e scatti veloci è possibile raggiungere comunque i personaggi dalla distanza certo sono estremamente fastidiosi sono veramente fastidiosi chiede Nicolas nella versione finale ci saranno i 5 Hokage Obito e Madara come personaggi sbloccabili? si 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 assolutamente si non li ho sbloccati ragazzi ma questa è più o meno una versione completa quindi alla fine della fiera ci saranno tutti i Kage ci sarà Obito ci sarà Madara ci sarà un po' di tutti qua sto caricando il mio salvataggio e sto continuando praticamente effettivamente stai sbloccando tantissimi AC ma ce devono essere tanti dentro nel gioco si parecchio si parecchi ma anche perché persone ci sono tantissimi capito? questo è il torneo mondiale dei ninja che praticamente è una roba inventata completamente con un grande torneo in cui il ninja più forte viene fuori bla 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 e l'unica vera novità di questa cosa perché è il ritorno delle fasi esplorative in parte e l'introduzione dei combattimenti A4 i combattimenti A4 cosa succede? tu usi un personaggio solo contro altri 3 personaggi in questa arena e vince quello che guadagna più Orb quello che guadagna più Orb gli Orb li perdi quando viene picchiato e chiaramente li guadagni quando picchi vedi qua il tuo personaggio arriva sull'isola a quel punto lì tu decidi con chi combattere il torneo prendiamo, non lo so, Giraia e via non ha alcun senso quella continuità perché teoricamente per il tempo in cui ci siamo dentro ci sono dei personaggi che non dovrebbero esistere dei personaggi che invece dovrebbero esserci insomma cose così però lo giochi un po' per piacere più che altro ecco, arrivi su quest'isola parli con loro ti dicono oh si è sbloccata una via perché avevo già vinto il primo pezzo con Neji e quindi adesso si è sbloccata una via e la mappa si è allargata e poi ci sono anche dei capitoli dedicati ad altri personaggi dove tu hai delle altre mappe tipo quello dedicato a Mecha Naruto io adesso ho un'area più ampia e posso esplorare un'altra zona e ci sono delle quest in queste zone però sono queste molto ripetitive fetch quest dove devi trovare il personaggio X fare la roba Y non sono particolarmente brillanti sono un contentino mi sembra più che altro un contentino per chi lamentava la mancanza delle sfide vecchie ecco Ninja del teletrasporto bla 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 esatto reception del grado C perché avevo battuto le sfide nel grado D adesso posso superare la difficoltà successiva qua c'è tutti i testi in interdoppiaggio vedo sento anzi ci sono dei quiz anche tra cui tra cui anche poi vabbè gli oggetti qua per recuperare dei sì questa è una zona chiusa come vedi dei sushi attaccati a un paracadute a quanto vedo esatto tra le varie cose e credo sia quella la cosa che si è aperta non vorrei dire una cavolata sì mi sembra di sì esatto questa è la zona che si è aperta della reception C che penso sia legata alla difficoltà a questo punto nel senso il problema del nuovo tipo di scontri sta in come sono strutturati cioè Naruto non è un gioco pensato per battaglia 4 ok e quindi può venire fuori un casino oh wow sono saluto lì sotto può venire fuori veramente un casino apocalittico se sbagli a a gestirti anche perché tu magari stai menando uno arriva un altro e ti prende da dietro e basta lì è finita e va un po' a caso cioè non c'è più la skill di mezzo va completamente a casaccio ok qua sono arrivato in questa zona semisegreta ti chiedono intanto Vira 97 sono rimasto un po' indietro col manga anime ma se tutti hanno il tipo risveglio vuol dire che tutti diventano delle bestie giganti simile ad una no 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 perché prima giocavo con con Hugo e lui ha un risveglio che non è una bestia l'ufficio di collocamento ci sono varie missioni secondarie si cercano i compagni d'allenamento a spiaggia del festival a posizione del chakra eccetera eccetera ci sono varie quest nel senso la minorità è anche longeva e anche a ben discretamente varie gambe ti fanno notare che la gravità è sempre la tua più grande nemica nei videogiochi a quanto pare esatto queste missioni in realtà sono dei combattimenti tra l'altro appunto ci sono i combattimenti a quattro non sono anche quelli classici questo qua è classico credo Annichi la chat nuova ce l'abbiamo da due giorni questo è il secondo live che assolutamente che usiamo questa chat e abbiamo raccolto un po' le opinioni di tutti e ovviamente c'è chi non riesce ad usarla perché usa un vecchio browser o un browser di quelli poco compatibili c'è chi invece ha apprezzato molto il passaggio a twitch perché prima non riusciva a chattare dal mobile più che altro che così riusciamo anche a chattare con chi ci segue da twitch e non direttamente dal sito magari ci segue da un dispositivo mobile eccetera usa l'app di twitch chiede un utente con un nome lunghissimo non sarebbe intelligente controbilanciare il counter facendo stordire il proprio personaggio nel caso in cui si sbaglia ad eseguirlo sarebbe già un bilanciamento più sensato skullduggery0 underscore 2 pleasant è il suo è il suo nick che l'iccone e niente abbiamo completato questa missione che come vedi ha gli obiettivi anche le missioni dell'avventura hanno gli obiettivi che le rendono un pochettino più interessanti adesso cerchiamo paragonabile ai budokai ti chiede mark 9601 non lo so per me i budokai sono in arriva soprattutto il 2 questo gioco qua non credo sono giochi molto diversi sia a livello di sistema di combattimento certo la spettacolarità non manca né a questo né ai budokai però questo qua è chiaramente più spettacolare perché è anche molto più recente e tecnicamente un po' più avanti adesso appunto vi voglio far vedere le battaglie a 4 perché le battaglie a 4 sono abbastanza interessanti per un paio di cose che sono state introdotte adesso vedo se riesco a trovare queste cacchie di reception perché come al solito mi sono perso per il momento ragazzi non abbiamo avuto problemi con Twitch col passaggio a Google eccetera però altri colleghi li hanno avuti gli hanno bannato il canale per un paio di giorni non abbiamo capito ancora perché perché non c'era nessun embargo o blocco speriamo che non sia legato a questo acquisto di Google perché se anche Twitch inizia a fare come fa YouTube secondo me è inverosimile che in un giorno sono riusciti a riorganizzarsi internamente per cominciare a bannare la gente sottovaluti le capacità di Google però adesso io ho il terrore che Google combinerà un casino sì 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 anch'io ma vedremo anche controllo ci sono anche dei negozi di oggetti come si deve vedere commesse delle emporie si possono costare varie cose tra cui anche personalizzazioni nel senso non alle emporie le personalizzazioni le trovi altrove adesso devo trovare appunto il posto che mi permette la forse sì credo che sia quello sì sì perfetto che mi permette di iniziare il torneo praticamente della fase C e invece no ragazzi il il fatto che noi mettiamo i dice Radum91 appena scopriranno i vostri legami con il canale di YouTube bannano vita no perché in realtà Twitch da sempre ancora prima di entrare in collaborazione con Google ci consentiva anzi ci forniva proprio i mezzi per caricare i nostri video su YouTube quindi noi finito uno streaming lo carichiamo su YouTube attraverso Twitch quindi in realtà c'è sempre stata una sorta di partnership tra le due realtà esatto tra l'altro la cosa interessante è la battaglia 4 che tu scegli tre membri del gruppo ne sblocchi altri completando delle quest perché delle quest ti sbloccano dei membri utilizzabili extra all'interno del torneo dei ninja e poi li utilizzi singolarmente per vincere le varie battaglie e sono appunto in queste arene e adesso ve le faccio vedere perché ci sono anche un paio di cosette interessanti all'interno della battaglia 4 Gioco Italia la tua domanda tienila per domande e risposte perché questo è un live dedicato a Naruto non andate off topic ragazzi è decisamente off topic da un punto di vista delle modalità di gioco qual è questa modalità sull'isola è l'unica aggiunta rispetto al precedente capitolo o ce ne sono altre chiede Gabnine mi sembra l'unica aggiunta mi sembra l'unica aggiunta a parte un bel po' di modalità a livello di scontro libro tra il survival e tutto quanto c'è a mio parere solo questa che è l'aggiunta grossa perché l'altra modalità quella delle storie è troppo simile alla vecchia campagna questa è l'unica modalità aggiunta è bella cioè non è una brutta modalità però ha un bel po' di debolezze prima su tutti il fatto di non avere a tutti gli effetti una trama interessante vedete è un casino perché tu adesso sei in tre contro questi qua e se tu tipo inizi ad attaccare gare uno da dietro ti attacca sono cavolacci tu poi inizia a perdere orb e diventa grave la situazione perché tu devi chiaramente menarli per guadagnarli gli orb però non è propriamente una passeggiata con quattro che ti menano puoi ritargettarli diventa tutto molto più semplice ma carino però si carino notare i cari di frame rate si per carità notare noi li notiamo a casa non li notano beh no credo che li notino anche a casa anche a Naruto se tu riesci a piazzargli la mossa finale gli togli un bordello di orb e a quel punto lì va in grosso vantaggio perché chiaramente prendi gli orb rispetto agli altri adesso vedo che Sasuke è quello in vantaggio e io non posso perdere ecco vedi quella roba lì la roba lì se ti becca diventa un problema diventa un problema grave però se riesci a farla tu preso e adesso Sasuke si è perso un bel po' di orb e io li ho guadagnati oh cambio storbito fate giocare l'ore assolutamente no ragazzi farei una figura barbina in questo gioco e li sono molto confusionare perché fai fatica tantissimo a capire come gestire tutto però quando gira diventa anche possono cadere dall'arena chiedermi 91 no no assolutamente no la battaglia poi va a punteggi nel senso che gli orb passano al secondo in aggiunta e quindi parte in vantaggio non puoi cadere dall'arena non qua non nelle battaglie a 4 quello che volevo far vedere che non sono uscito a far vedere e vedo se riesco a farlo vedere adesso è l'attacco con le guide che provo a vedere se riesco a trovarla la guida no non c'è non è presente qui e con Naruto è un personaggio piuttosto forte per questo genere di battaglie perché le sue combo te le portano a destra a sinistra effettivamente il reminder nota una certa somiglianza con Kingdom Hearts in in questa modalità un pochino la lontana ricorda effettivamente diciamo il fatto che quando colpisci nemici seminano orbe da raccogliere un po' ricorda che mi domani un pochino ecco vediamo se riesco ad arrivare là prima che mi ammassino i frusci elettromagnetici sporadici possono essere dovuti al fatto che ho una tastiera guardate questa cosa qui fai un attaccone dall'alto se prendi la guida e se li becchi prendi un quantitativo di orbe esagerate molto coreografico ma chiaramente anche non sensatissima come cosa e il tempo è piuttosto limitato e adesso sono in enorme vantaggio perché Orochimaru era quello messo meglio e gli ho fregato buona parte degli orbe ecco uno dei modi in cui hanno bilanciato questo caos totale a parte è che l'IA è un po' ebete e quindi praticamente uno dei motivi per cui non ti sfacca il culo è che ma si può modificare l'IA? la difficoltà aumenta a seconda del ranking ok cioè adesso sono ranking C e poi chiaramente se passo al ranking B diventa ancora più problematica e tutto quanto qua ho stravinto e poi si va avanti è comunque già ancora facile qua è chiaro che il ranking S diventerà seriamente un problema perché se tu non usi personaggi che magari hanno special ad area tipo Neji è molto avvantaggiato in queste battaglie perché la sua mossa speciale è questo turbine di energia attorno a lui e quindi anche se lo attaccano da più parti non gliene frega una mazza perché lui attiva il turbine di energia e quindi ti rompe in due però personaggi molto con attacchi singoli diretti risultano abbastanza avvantaggiati e appunto in questo caos totale può essere un problema ragazzi ma l'uno contro uno cosa volete vedere io che le prendo da pregianza non a parte che non abbiamo qua il pad quindi non serve niente ma un pad ce l'abbiamo però effettivamente ragazzi c'è diversamente dal buon Valentini che comunque con il picchiè duro pad dica abbastanza io oggi mi sono vergognato di me stesso perché ho aperto Steam e ho constatato di avere giocato quest'anno 48 ore a 3 in simulator mamma mia hai ragione aver geniati fammi vedere se trovo un pad di quelli brutti intanto premo i tasti a caso vediamo che cosa succede a volte funziona ecco qua ho preso due assieme e questo è jackpot direi che devo sincronizzare questo pad ragazzi mi assento un secondo per sincronizzare il pad che è successo che è successo no sincronizzare il pad che non è sincronizzato non avevo previsto di fare un live vogliono vogliono che giochi beh proviamo tanto non vi aspettate grandi cose battaglia 1 contro 1 battaglia singola non multigiocatore va bene ok facciamo sta battaglia singola dice promettono di premere sempre cerchio e vinco quindi userò questa tecnica cerchio che è la tecnica del chakra premi cerchio e vinci cerchio è combo direzionali cambia combo mentre schiacci cerchio triangolo è il chakra triangolo e poi cerchio è la mossa speciale quadrato colpi della distanza triangolo e poi quadrato colpi della distanza speciali x due volte scatto ok sei già fottuto triangolo x super scatto triangolo sono tre mosse praticamente se faccio così cosa succede? non funziona va bene non credo che cambi molto triangolo potenzia tutto praticamente questo era il salto e lo scatto se lo schiacci due volte è inutile che mi spinghi non ho capito niente fa lo stesso tenteremo di torniamo a scelta le modalità e vediamo cosa riusciamo a fare guarda tanto la chat chiede qualcosa interessante mi chiedono perché non ha un canale di twitch perché in genere la sera preferisco dormire no non proprio però preferisco fare altro allora ding valentini sfida vs giocatore 1 verso giocatore 2 partita individuale scegli un pg scelgo un pg allora ma perché non va? devo entrare a start ok bene allora io direi che scelgo un personaggio tipo c'è la rl2 esci dalle combo ne hai l'indicatore è limitato non ne hai infine vediamo che posso prendere poi prenderò non c'è un personaggio tettone tipo no si no questa qua sembra la fidanzata di scelgo senti prendo il super panzone chi se ne frega venga apposto che mangia le patatine voglio il risveglio tanto ok tieni schiacciato triangolo quando si carica tutta la barra per fare il risveglio però deve caricare tutta la barba la barba si deve caricare tutta la barba riscontro 1 cos'è lt ragazzi sto usando una playstation o no una cazzo di xbox l2 ok ok capisco quadrato tira cerchio pugno apposto questa è la parata e il triangolo cosa fa? triangolo carica colpi effusi e tecniche speciali questo cos'è? cazzotto e questo è salto esatto e se ti piace triangolo x fai il superscatto così e questa che ho appena consumato cos'è? era il risveglio con l'R ok e ti ha cambiato vabbè ci sei? si vai ok yeah l2 per uscire dalle combo hai preso bravo per caso completamente ma no in realtà è tutta tattica ragazzi io ho vinto l'international di naruto ultimate ninja boia cane stai utilizzando la tattica segreta è di gordo il sito schiaccio tasti a caso vediamo cosa succede eh ma le sto prendendo non è valido buona boh io non riesco più a sviscerarmi da le tue combo perché non hai più i tronchetti da licita ma dai così proprio sì io ti lancio le mine ah posso finirti con la terza premia se ti prendi vediamo se ce la faccio è mancato e sarebbe parte da proprio essere quella molto spettacolare quella di lì oh e fatti prendere prendi nooo che sfiga nooo booo calcio potente amici dice la tattica d'ora tra un minuto mi vengono i crampi alle dita in realtà mi sono già venuti ok dai facciamone un'altra io non ho ancora assolutamente capito che cosa sto facendo ho cercato di spiegartelo mi hai guardato come quei bambini a cui spiegano l'algebra dal primo giorno di scuola esatto vabbè proverò a prendere dai sakura tipo azione che non ha senso in realtà nella battaglia solo vabbè io prendo Naruto a questo punto visto che è il protagonista del gioco tipo azione non credo che abbia molto senso quando non hai gli assist ah va bene chi se ne frega senti LG vabbè tanto hai visto che gioco praticamente cercando di capire più o meno cosa succede se il mio pollice è ancora opponibile l'ho notato dalla prima partita ma chi se ne frega tu però non hai nessuna pietà io non ho pietà per nessuno come cacchio si esce dalle combo a parte usando i tronchetti della felicità nessun altro modo chi usa i tronchetti della felicità o si succa va vabbè niente ho finito adesso shannarò boh vabbè non sto neanche capendo che cosa sto facendo è assolutamente un mistero per me oh ma hai preso cacchio cacchio non posso usare la tecnica suprema te la volevo usare invece me l'hai sigillata quindi devo aspettare finché non si desigilla adesso se voglio usartelo in faccia maledetto dai desigillati e crepa ma cribio ok ci sono vabbè io direi che mi fermo qui con questo gioco non puoi non puoi giocare senza sopportocare ma per forza ma me l'hanno chiesto cioè ragazzi è come se chiedete che cacchio ne so a uno che gioca a me di giocare contro Messi a calcio esatto a me di giocare a train simulator a train simulator ti spacco il culo in pvp a train simulator in pvp ti spacco il culo chissà che scambi che mi fai ti faccio a parte che non si chiamano scambi si chiamano deviate chiedo scusa si chiamano deviate chiedo perdono le deviate mi sembrano abbastanza giuste anche perché dopo 40 ore di gioco di questa versione di quest'anno sono riuscito ad accumulare soltanto un ritardo di 15 secondi sono quasi a livello giapponese però che ho iniziato a livello tipo ferrovie nord comunque vi faccio vedere un attimino le avventure ninja carichiamo la partita le avventure ninja sono praticamente degli scontri intervallati da materiale dell'anime dei filler c'è un'ora di materiale inedito dicono però bene o male il materiale è quello dei filler quindi qual è la creazione della Katsuki e ci sono appunto le battaglie Morris 90 vince il premio il premio similitudine perché dice è come chiedere a Fires di fare Dark Souls senza arco il premio similitudine è giustamente vinto appunto qua ci sono le scene dell'anime con tutto quanto e via così si vorrebbe la speedona 3 in simulator cacchio potremmo farla non so neanche se ci sia il pivio chi arriva primo a a Brighton con qualche cosa c'è anche la donna della non credo di poter partecipare della Torino-Genova o qualcosa del genere appunto ci sono le scene dell'anime che peraltro gira a a un decolosissimo 24 fotogrammi al secondo 25 insomma a qualità 20 forse qualità anime comunque non qualità in genere dell'animazione anche se l'anime di Naruto che è lo studio Pierrot non è certo un capolavoro quando si tratta di qualità di disegno e animazione perché sono il studio Pierrot è uno studio specializzato nella produzione di anime velocemente non a livello qualitativo elevato cioè sono quelli che fanno sempre le serie lunghe praticamente quelle che durano una vita però ti vorrei ricordare che studio Ghibli cosa ha fatto con Level 5 le animazioni non erano un gran che perché erano girate però i disegni erano i disegni erano superlativi ma il gioco girava nelle fasi animate a 12 fotogrammi al secondo e si notava tantissimo tantissimo poi mi era dispiaciuto il filmato e vi faccio vedere un attimo come sono gestite appunto le battaglie allora ti danno ti fanno usare qualcuno vinci la battaglia e ti ritrovi contro l'avversario e hai gli obiettivi in questo caso usiamo Itachi che rende raccontento molti giocatori Deidara è considerato da molti uno dei personaggi più fastidiosi di tutto Naruto perché è uno zoner irritantissimo a bestia ripeto è uno zoner irritantissimo a bestia però almeno sembra che l'avranno leggermente ribilanciata nel senso che toglieri abbastanza poco come potete notare anche con le tecniche vi dovrei fare un bel tutorial di questo gioco per capire un po' come funziona ma in realtà tra i picchiaduro è uno dei meno complicati ok ma non puoi pretendere che in un secondo adesso vado a giocarlo assolutamente 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 a produrre giochi come Naruto in esclusiva Next Gen slegandosi dal business Old Gen e appena la gente comincerà a comparare le console Next Gen questa è la... perché questi sono giochi di massa cioè che piacciono a un folto gruppo di persone a un folto gruppo di giocatori non riesco a topirli con la suprema di Itachi anche perché non mi parlo come funziona la suprema di Itachi però vorrei ricordare che tradizionalmente i giochi i giochi basati su anime e manga sono dei giochi la cui vita si prolunga ben oltre la vita delle console vorrei ricordare che per esempio Naruto Shippuden scusate devo dire Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 è uscito su Playstation 2 e su Nintendo Wii in era Playstation 3 quindi non mi meravigliare se andassero avanti per un altro anno tranquillamente però sappiamo che c'è un Dragon Ball in arrivo su Playstation 4 trovo giusto? si se non verso di Playstation 4 si quindi diciamo che stiamo stiamo arrivando alla transizione esatto facciamo vedere un ultimo scontro e poi direi che possiamo chiudere qui anche per tutto quello che c'è da far vedere l'abbiamo fatto vedere perché sento che tipo in sottofondo c'è un oratorio di bambini c'è l'oratorio e uno che sta tagliando l'erba esatto o forse sta tagliando i bambini una delle due cose giudicare dagli urli dei bambini ho sottovalutato tantissimo i dan che mi stanno quante ore dura il gioco ragazzi non l'abbiamo ancora finito non lo sappiamo non l'abbiamo ancora finito è una versione preview lo ripetiamo per la diciottesima volta esatto ma credo che comunque la durata sia più che degna non lo sappiamo non l'abbiamo fatta tutta quanta perché sì perché è alle gritte Raph100 dice non c'è motivo adesso di prendere una console next gen è vero magari l'anno prossimo all'inizio del prossimo anno le cose saranno diverse ma credo che nonostante questo per un altro anno i giochi di questo tipo andranno avanti tranquillamente sulle console old gen perché comunque il pubblico delle console old gen è ancora molto grande sicuramente superiore a quello delle console next gen o forse sono i bambini che tagliano l'erba dice promete 92 è possibile una possibilità da non scartare devo metterlo le tecniche supreme come sempre sono una grandissima figa il netcode non c'è ragazzi il netcode non c'è nella versione test l'avevo provato nella demo purtroppo non è molto soddisfacente il netcode di Naruto non è mai stato granché lagga parecchiotto anche spesso in partite con giocatori europei e quando funziona bene funziona bene però non è esattamente il più affidabile dei giochi online per quanto riguarda invece il live di domani ragazzi vediamo che cosa organizzare perché ancora siamo in fase di di comprensione anche perché domani c'è un embargo molto importante perché scade l'embargo di sacred però non avremo la recensione non avremo la recensione ancora perché un'ora oggi direi che non mi basta eh sì ma anche perché il gioco è arrivato due giorni fa credo quindi ci vuole un gioco abbastanza lungo però potremmo mostrarvelo possiamo tornare a tutto schermo sia perché ormai abbiamo giocato dicevo domani se riusciamo potremmo mostrarvi il data che devo ancora capire perché non vedo il monitor quindi un attimo di pazienza sì sì di ancora eccolo qua nel frattempo continuerò a fare ma non lo vede nessuno e no dicevo potremmo farlo vedere sacred 3 magari per un un'oretta si può improvvisare qualcosa va installato sul portatile ma possiamo tranquillamente usare il tuo computer ti ho appena cambiato la scheda video no parlavo dello streaming perché poi devi farlo con vmix e poi rischi ma non ti preoccupare sì mi preoccupo perché poi l'ultima volta lui comincia a fare questi discorsi tech allora ho fatto comparire da nulla il cazzo di Valentini ti devi fidare delle mie capacità non è una cosa di cui mi manterei far comparire da nulla il Valentini se ti devo dire la verità l'ho mandato a Raffer il curriculum ecco l'unica cosa che mi pento è che l'ho mandato a Raffer e non l'hai lasciato non sono riuscito a lasciarlo lì no esatto cosa è il curriculum faccio comparire i Valentini licenziato cioè sai perché cazzo ti annuniamo licenziato in tronco bene ragazzi chiudiamo qui a questo punto sì finiamo qui ci vediamo domani ci vediamo domani domani comunque avremo anche occasione di parlare perché la prossima settimana sui live ci saranno alcune grandi sorprese grandi sorprese quindi ne riparleremo domani prima del weekend ciao ciao buona serata ciao 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 ciao